Sono molto felice di essere qui oggi all'edizioni Rio per presentare questo mio primo libro. Arrivato un po' in tardetà ma fatto con tanta passione. Si chiama Italia Minor. Perché ho fatto questo libro? Me lo chiedo ancora adesso. Poeti, santi, navigatori, scrittori e pochi lettori. Forse è questo il problema. Io però penso che ci sia uno spazio anche per una nicchia così particolare. Sono 18 paesi, sono 7 itinerari molto particolari e anche alla fine 7 cimiteri, come un'alfa omega, ma tutti all'insegna dell'arte, dell'arte piccola, minore, poco conosciuta, dove veramente quando si va nel paese si va raccolti dal vecchio del paese che si stacca magari dal lavoro in corso per venirvi a salutare e darvi il benvenuto. Il libro è diviso in tre parti. Ci sono le chicche dei borghi, quindi 18 paesi, come dicevo, sconosciuti che possono essere goduti perché il turismo non li ha ancora sfiorati. Le chicche della memoria, che sono 7 particolissimi luoghi dove i personaggi, in questo caso artisti, hanno creato la loro babele praticamente, mettendo anni, tempo e denaro e la vita per costruire questa loro città ideale. E infine, come nella vita, alfa omega, in finale 7 cimiteri, ma 7 cimiteri non visti come posto ferente, ma come luoghi d'arte. Esempio, per esempio, il cimitero di La Orca in provincia di Lecco, scavato completamente in una grotta con le stalattiti. Oppure il cimitero delle Fontanelle di Napoli, dove i napoletani, guarda caso, la commedia dell'arte adottano i teschi. Ecco, un itinerario completo che penso vi potrà piacere, stupire, è una lettura veramente facile ma interessante. È anche relegato molto bene, può essere anche un regalo da fare agli amici, a qualsiasi tipo di amico, anche se non è acculturato, proprio perché è veramente immediato. Non c'è la storia grande, non ci sono i grandi interpreti, c'è tutto un'Italia minor, ma l'Italia minor forse nel mondo sarebbe veramente major. Io vi ringrazio e spero che abbiate il piacere di consumare questo libro che è a vostra disposizione all'edizione Rio. Grazie.